Negli ultimi giorni ci sono arrivate diverse segnalazioni per quanto riguarda la problematica che presenta la strada che collega Cappone alla Celletta Country House, uno stato di degrado ma che comunque può essere risolta. Come può intervenire il comune di Vallefoglia in questa problematica segnalata da alcuni clienti della Celletta Country House? Quella strada è prevista la sistemazione, diciamo che già una parte di asfalti è stata fatta l'ultimo intervento di 600 mila euro, c'è anche il tratto che va a Coldelce che sono un po' le nostre cesane, che è un posto meraviglioso, bellissimo. Abbiamo concordato anche con il comune di Urbino perché l'ultimo tratto è del comune di Urbino che prima faranno i lavori, non appena ritorna la stagione che si fanno gli asfalti, il comune di Urbino per evitare di rompere poi i lavori che facciamo nel tratto che è nel comune di Vallefoglia e poi faremo tutta la sistemazione di un tratto che non è breve, è un tratto molto importante, bellissimo, ma è un tratto lungo e dove ci sono diciamo non troppe, non tante abitazioni, però è previsto, quindi non appena la stagione ci consentirà di fare gli asfalti si farà tutto l'asfalto, noi e il comune di Urbino insieme perché ci siamo messi d'accordo per rendere fruibile, migliore il tratto che va fino a quell'attività turistica molto importante. Ha detto che interverrete appunto quando la stagione ve lo consentirà, di che mese più o meno si parla? Penso a primavera, insomma non appena per fare gli asfalti ci vogliono almeno 8-10 gradi, insomma se la temperatura non è di questo tipo si rischia che gli asfalti poi non tengono, dopo un po' si rompono, poi adesso nel periodo invernale proprio quel tratto lì sono andati su con i mezzi per lo sgombro di neve, vuol dire che risfasciano tutto, perché l'inverno quando fa la neve e diciamo i mezzi per sgombrare, riaprire le strade, di solito se gli asfalti non sono fatti, temperati bene si sfasciano e quindi tocca rifarli, sono delle spese che si possono evitare insomma.